ciao a tutti streghetti e streghette benvenuti in questo nuovo video oggi prepariamo insieme dello slime super glitterato senza utilizzare la colla ho visto questa ricetta su diversi canali ed ho voluto provarla anche io e mi sembra veramente fantastica ma vediamo immediatamente prima di cominciare quali ingredienti ci serviranno per il nostro line cominciamo con la nostra maschera peel off per il viso una qualunque di qualunque marca che contenga poli vinil alcol quindi guardate gli ingredienti la mia maschera è nera quindi va bene così non aggiungo nessun colorante se voi invece avete una maschera trasparente o di un altro colore e volete colorarla potete farlo con il colorante alimentare adesso date spazio alla creatività e aggiungete tutti tutti i brillantini che volete ma per i miei gusti non sono abbastanza quindi continuo ad aggiungere altri glitter quando siete soddisfatti con i vostri brillantini aggiungete un pochino di bicarbonato di sodio e poi aggiungete la soluzione per le lenti a contatto oppure le goccine per gli occhi se necessario aggiungete qualche goccina di gocce per gli occhi o soluzione per le lenti a contatto in più e cominciate a mescolare con le mani il vostro slime fino a quando la consistenza non è perfetta e il nostro slime fatto senza colla è pronto fatemi sapere se questa ricetta vi è piaciuta lasciandomi un commento qui sotto magari iscrivetevi se non siete ancora iscritti mettete un mi piace e venetemi a trovare anche su instagram noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao